Preservare la tradizione locale, salvaguardare l'ambiente e consegnare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi attraverso i cibi che mettiamo a tavola. In pratica, se consumiamo prodotti locali, evitiamo il trasporto delle merci e l'immissione di CO2 nell'aria, contribuendo a contrastare i cambiamenti climatici in atto. E il messaggio che Slow Food Puglia diffonde con le attività che organizza sul territorio regionale, i mercati della terra di scena domenica sera in piazza Leonardo Leo a San Vito dei Normanni si inseriscono in questo contesto. Per l'occasione è stata presentata anche la guida agli extravergini di Slow Food, un faro per orientarsi nell'affascinante mondo dell'olio, ambasciatore di Puglia al pari del V. Sappiamo benissimo che una delle maggiori cause dei cambiamenti climatici è l'attuale modello di produzione e consumo alimentare, caratterizzato da un uso massiccio di chimica, diffusione delle monoculture, allevamenti intensivi, sistema distributivo delocalizzato, delstagionalizzato con tanto spreco. Tutto questo amplifica i cambiamenti climatici causando siccità, alluvioni, perdita della biodiversità e migrazione dei popoli. Una piazza che sta di educazione, sostenibilità, condivisione, valori che sin da subito ci hanno spinto a sostenere la collaborazione con Slow Food. Abbiamo nuove chiocciole per la Puglia, abbiamo sicuramente un innalzamento della qualità globale dell'olio extravergine di oliva in Puglia. Allora Grazie a tutti